chiudi quella cazzo di porta che bello si gioca la tombola adesso mi sa che adesso arriva la parte bella chissà com'è divertente ok meglio chiudere da quella parte e adesso tutti in soffitta prendete questo stranissimo devi usare l'erba dal peru se morite oh cazzo ahahah vieni qua potana che non sei altra muori bitch con la pistoletta è morta si è morta forse è morto ma porca in questi casi non bisogna andarsene ma usare l'erba muori stronzo beccati quello oh cazzo ho visto un uomo con la motosiglia l'ho visto e allora usiamo l'arma pesante l'erba l'unica che abbiamo adesso ah ciò facciamogli un cannone portatelo un cannone con l'erba se vai si muove si muove è quello che mi preoccupa però si vai una festa senza test quel bastardo mania proprio la motosiglia beccati questo e un'altra testa va no potremmo girarne un film si il collezionista di test e muori stranissimo due di seguito questo ha piaciuto già uh la campana che è successo in spagnolo che è successo lasciamo le armi cosa devono andare tutti al bagno come le ragazze tutte nello stesso momento nello stesso secondo che bella faccia una bella c'era ragazzi fatemi entrare dove stanno andando gioca a tombola e adesso si vedono quelli che giocano a tombola 37 bingo iiii finito? no ah telefono ancora ma sembra tutte le notizie da o se sarà una che porta ieri infatti è sempre vestita di me non come leone il giubbino figo quanto mi piace questo giubbino andiamo a dare un'occhiata al ragazzo la all'amichetta mio dio se solo mi avesse seguito invece ha deciso bene di starsene in macchina a cazzeggiare che schifo ok è arrivato il momento di andare a prendere un po' di oggetti ah si facciamo la semina c'è la raccolta ttiri ttiri granata bomba a mano uuu ccici che bel letto coperto di macchie ci dormia un bambino che si piscia sotto di certo non andremo d'accordo quando è che va nella torta? ehm dopo un po' ehm si un bel po' perchè è meglio avere delle munizioni invece che non averle giusto? no meglio usare l'erba ah gli offriamo un cannone una canna? pfff e sai come si usa una di queste? vai zitto e posso posso stare calda ahahah naturalmente un cittadino no se non sbaglio qua ci deve essere uno spinello forse forse non è detto santa ciao ciao un'agilità mostrovosa salute ma ecco lo spinello me lo ricordavo un pochino diverso hai preso spinello adesso fumalo noi andiamo avanti se no qua due palli non ah Sì, sì. Grazie. 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 Grazie.